Formazione scolastica, ricerca universitaria, innovazione tecnologica e valorizzazione di un prodotto d'eccellenza come l'olio DOP di Cartoceto. Tutto questo è il progetto Olive Jet, un progetto che abbiamo già seguito con l'avvio di un olivetto sperimentale qui all'Istituto Agrario Cecchi, dove tutti gli interlocutori si sono ritrovati oggi dall'Istituto stesso all'Università Politecnica delle Marche, al Consorzio DOP di Cartoceto per presentare i primi risultati di questo importante progetto che unisce scuola, università e ricerca. Abbiamo aderito a questo progetto assieme all'Università Politecnica delle Marche per preparare figure con elevata professionalità per i nostri studenti. In fin dei conti abbiamo aderito per apprendere queste nuove tecniche e nuove tecnologie di coltivazione dell'olivo con la sensoristica applicata che poi abbiamo esteso anche ad altre coltivazioni, anche sul vigneto. Serve innovazione ma anche valorizzazione dei prodotti locali. In questo l'olivo forse è una delle specie che più rappresenta le Marche, abbiamo più di 20 varietà diverse e una di queste è proprio la varietà simbolo dell'olio DOP di Cartoceto, cioè la ragiola. Nel campo poi sperimentale che poi i ragazzi seguono qui in azienda è possibile vedere già le piantine che stanno crescendo e hanno una differenza rispetto alle piantine tradizionali, perché sono generalmente più piccoline in partenza, poi crescono molto molto velocemente. E in questa prima fase vengono protette da uno shelter, cioè da uno schermo, perché devono poter crescere senza avere troppa competizione delle piante vicine. Noi vorremmo con questo impianto fare capire che l'alta densità non è sinonimo di un'olivicoltura non rispettosa dell'ambiente o per prodotti di bassa qualità, ma che è semplicemente un'altra modalità di fare olivicoltura che permette una riduzione dei costi, soprattutto per quanto riguarda la raccolta, perché può essere fatta con la macchina scavallatrice, quindi veramente costi molto ridotti e tempi molto ridotti. In questo modo è possibile fare addirittura una qualità anche migliore, perché la raccolta è molto più rapida, si evita il calpestamento a terra dei frutti e i frutti vengono immediatamente e velocemente portati al frantoio. Perché capire come è cambiata, come si sono trasformate le varie tipologie, quindi le varie forme di paesaggio, serve anche per progettare, pensare di sviluppare l'olivicoltura attuale, insomma, che deve tener conto sia degli aspetti produttivi, naturalmente, ma anche degli aspetti culturali, turistici, si parla di oleoturismo ormai. Qui abbiamo applicato una piattaforma informatica che fa essenzialmente due cose. Una, diciamo, dà dei consigli tecnici, come dicevo prima, su quello che viene utilizzato e come è meglio utilizzarlo. E due, segue il Consorzio di Cartocetto nella tracciabilità dell'olio, quindi dall'oliva al prodotto olio. Con l'Università, con l'UniVPM e con Agraria specialmente, collaboriamo su molti progetti. Questo non è sicuramente l'unico, ne siamo felici perché effettivamente ai ragazzi viene presentata anche una possibilità di orientamento futuro, è un proseguo dei loro studi e quindi è sicuramente una cosa efficace per i loro studi. Sono dati evidenti che le professioni del futuro saranno legate sempre più a tecnologia. E quando noi lavoriamo in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, che ci aiuta a sviluppare sempre di più la tecnologia in agricoltura, possiamo sicuramente consentire a questi ragazzi di avere un futuro in agricoltura, cioè di vivere di agricoltura, perché se non si vanno ad abbassare e ad abbattere alcuni costi che sono legati alla produzione, in questo ci viene aiuto la tecnologia, come i droni, come l'agricoltura di precisione, l'irrigazione a goccia, tutti questi elementi ci aiutano a risparmiare soldi e quindi a rendere maggiormente remunerativo il lavoro in agricoltura. Se questo non c'è, l'agricoltura viene abbandonata, quindi questi ragazzi in questo modo potranno avere una professione.